un locale quando verrà una bella padigliana ma anche questo qua affascina il tempo di una volta ricordi più ogni prodotto ha i suoi sapori no ma neanche me, di che colori questa roba qua si è fantastico si è a casetta qua davanti non so più andato a vederla credo che ha fatto anche la terrazza fuori so che consigli amiche a volte la terravista qua a vederla il cotto si si da Norris e si qua questo è proprio dobbiamo passare davanti prego faccia pure che bella che è questo la signora dice che il pavimento è da agosto dell'anno scorso che non gli fa più niente oggi siamo 15 giugno 2015 la signora e qui da si si non basta dopo dobbiamo fare tre rospi dopo dopo tocco da farlo in tempo è tornato quindi da un po' aspetta qui e qui faccio qui e 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 qui ogni angolo è perfetto non c'è zona che non siano omogenee uniformi nella bellezza una bellezza incantevole sempre più bello questo pavimento terre dorate è stato posato nel 1990 oggi siamo a luglio 2015 ogni pezzo è una scultura un pezzo unico e se tu forse ragionare ma non è bene eh 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 eh